Quello che fu il glorioso polo dell'elettronica dell'Aquila rischia di perdere un altro pezzo pregiato. La Intex, società che del 1974 opera nel settore della progettazione e sviluppo di sistemi informatici per aerospazio, difese e trasporti. La proprietà ha annunciato infatti che a causa della crisi che attanaglia il mercato di voler procedere al licenziamento di 14 dei 98 lavoratori impiegati in città. E sarebbe solo l'inizio della fine, visto che gli esuberi dichiarati sono una sessantina. In una drammatica riunione di ieri pomeriggio convocata a Palazzo Silone dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, le posizioni restano distanti. Il rappresentante della società Marco Casucci ha confermato che non ci sono alternative alla riduzione del personale, strategia che riguarda del resto anche altre sedi della Intex in Italia. L'unico risultato ottenuto dai sindacati è la disponibilità da parte dell'azienda a sospendere le procedure di licenziamento per i 14 dipendenti fino a al 31 dicembre. Tempo prezioso, ha spiegato Lolli, per valutare a metà dicembre altri progetti industriali in corso che riguardano il sito dell'Aquila. Ci sarebbe anzi già un imprenditore interessato ad investire in città. L'obiettivo è dunque far riassorbire nella nuova attività i lavoratori in esubero della Intex. Per portare a buon fine questa strategia occorre però, evidenza ai sindacati, di garantire la priorità di assunzione per le professionalità di Intex in esubero e Lolli ha evidenziato che strumento utile a tal fine sono i fondi destinati allo sviluppo economico, il 4% delle risorse per la ricostruzione post-sismica. Ovvero chi si insedia all'Aquila soffrendo di sgravi fiscali e generose erogazioni di denaro pubblico dovrà almeno impegnarsi come condizione sine qua non a sottoscrivere un accordo che preveda l'assunzione del personale di Intex.